Mi chiamo Francesca e faccio la prima media. Qui ho studente felice e ho imparato a schematizzare. Mi è piaciuto fare le mappe assieme alle mie amiche. Ho migliorato la sicurezza nell'esporre alle professoresse perché prima ero più timida e adesso invece riesco a esporre meglio. Suggerisco questo corso alle mie amiche perché ho imparato molto e mi è servito a migliorare la mia media nei vuoti.